Bene ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video del mio canale, sono Neoz di Neoz Photography e come vedete quest'oggi siamo in questa strana location, su un divano, non siamo nel solito posto dove siete abituati a vedermi nei video del mio canale e ovviamente non sono da solo, sono qui con Giulia. Ciao a tutti! Giulia che avete già visto in un altro video dove vi spiegavo, dove facevamo del ritratto in studio. quest'oggi vi facciamo una chiacchierata un po', ho sfruttato la conoscenza di Giulia che è attrice, che nasce come attrice, poi ha fatto ovviamente anche la modella e quindi ha anche un'esperienza dall'altra parte dell'obiettivo rispetto a me e volevo fare una chiacchierata un po' con lei per darvi alcune curiosità su questo mondo, quindi cinema, fotografia e quant'altro. Allora, la prima cosa, Giulia, che volevo chiederti per questa chiacchierata che facciamo è proprio questa, un po' la differenza, siccome tu sei stata abituata, e il tuo lavoro è quello di attrice, quindi sei abituata a stare da questa parte dell'obiettivo in questa situazione, cioè video. Quindi qualcuno ti commissiona una parte, entra all'interno di una parte, tu hai lavorato per spot, cortometraggi, insomma hai fatto tante cose di questo tipo e quindi mi interessava un po' capire qual è la differenza che tu percepisci quando si sta parlando di video e quando invece è un set fotografico, come quello che abbiamo fatto insieme la volta scorsa, nel video scorso che linkiamo anche qui sotto, così se lo vanno a vedere i nostri amici. Questa differenza un po' tra i due mondi, che cosa ci puoi dire? Ok, allora. Puoi anche reggere il microgelato? Esatto, perfetto, così diventa molto comodo. Allora, innanzitutto, secondo me il motivo per cui io faccio entrambe le cose è che di base non c'è una differenza sostanziale, nel senso che così come reciti una parte quando fai l'attrice e quindi sei la protagonista di un video, nello stesso modo tu reciti una parte anche quando posi come modella. A maggior ragione, quello che mi è capitato più spesso è che le persone che mi hanno chiesto di fare set fotografici lo facessero perché avevano in mente un'idea che aveva a che fare con il recitare una parte, ovviamente per, come dire, la mia fisionomia, come sono fatta alla persona che sono, non sono lo standard della modella classica, quindi non mi troverete mai a fare un set fashion di quelli del pubblicità, di un certo livello. Però è vero che in tutti i campi della fotografia, quindi anche in una parte moda, si può scegliere proprio di avere una volontà di risultato fotografico che non sia appunto quello canonico, ma che sia... Un po' stereotipato, insomma, quello un po' stereotipato della modella con i canoni classici, l'1.80, misure da passerella. Esatto, ma che si voglia calcare invece di più sulla parte interpretativa, un po' anche divertente, può essere qualcosa di più frizzante, ecco. In questo mi ritrovo molto di più. Oppure, dall'altra parte, quello che spesso mi è stato richiesto, è la parte più di ritrattistica, perché in quanto attrice posso, diciamo, dire con un minimo di modestia, falsa modestia, di essere ovviamente in grado di esprimere diverse emozioni, dal punto di vista proprio dell'espressione del viso, più facilmente. Infatti, ricordiamo a chi ci sta... Fai tu la reggi in microfono, dai, che così almeno io sono più libero che gesticolo all'italiano. Perfetto. Infatti, io e Giulia abbiamo fatto anche questo video, che vi mettiamo anche questo in descrizione, che è fantastico, perché è una produzione dove praticamente c'eravamo io e lei, e basta, cioè io ho scritto il testo, lei lo ha recitato, io ho fatto il video, io ho fatto il montaggio, cioè, e ho scelto lei anche proprio per caratteristiche di espressività che mi hanno colpito vedendo altre sue cose. Grazie, mi commuovo. No, non è uno spot, cioè io non è uno spot, non sono pagato da nessuno. È per descrivere un po' quello che abbiamo fatto insieme. E quindi questa cosa l'ho vissuta un po' anch'io, perché io con lei ho fatto sia video, e quindi c'è stata la parte recitativa, dove ti ho chiesto di interpretare un testo che ho scritto io, e abbiamo fatto anche del ritratto insieme. Quindi proprio per questo è venuta questa idea. effettivamente c'è un parallelismo, ma ci sono anche delle differenze abbastanza consistenti. Esatto, andiamo alle differenze. Esatto. La differenza più sostanziale, mi viene da dire, è che ovviamente mentre in un video sei in movimento, in una foto l'immagine è statica, sembra una banalità, ma nel momento in cui ti trovi su un set, quindi appunto sei l'interprete di qualcosa di statico, devi imparare a gestire la tua parte espressiva in modo statico, per cui così come un attore, magari c'è un po' anche questo cliché di entro nella parte, mi serve del tempo per entrare nella parte, vero in parte, quando ti ritrovi invece da un punto di vista fotografico, quella cosa devi farla istantanea, e devi saperla mantenere, perché a volte quello che ti viene richiesto ovviamente è di mantenere un certo tipo di espressione, un certo tipo di posa, che ha a che fare con una parte interpretativa o meno. L'altra differenza è che devi imparare a gestire il tuo corpo e il tuo viso, considerando anche una parte diciamo più estetica, mentre magari quando fai un lavoro da attrice la cosa che ti interessa di più è come entri nel ruolo e cosa interpreti, come dici la parte di testo, nella fotografia c'è ovviamente una componente estetica fondamentale, quindi devi imparare a conoscere il tuo mezzo, che non diventa più solo il corpo, in quanto mezzo espressivo ma anche come mezzo estetico, e sapere come metterti in modo da avere un risultato ottimale. Per questa cosa mi viene da fare questa precisazione, io che ovviamente ho fatto video, faccio fotografia da tanti anni e vedo tantissimo video, perché sono anche un appassionato di cinema, ho notato questa cosa, questo aspetto che mi ricollega a quello che stavi dicendo prima. in fotografia si tende a perfezionare molto di più l'estetica, la luce deve essere più, migliorare comunque sempre la persona, nel video, nel cinema in generale no, perché quello che è molto più importante è creare un'emozione, raccontare una storia, quindi anche se io tipicamente sgrazio un po' il viso, a volte lo si fa apposta, a volte rafforza l'espressività, il fatto di non essere perfetti da un punto di vista estetico. Invece in fotografia, al di là di certe correnti, certi stili, molto verità, di solito si tende a dire la luce la metto tutta perfettina, così risolvo i problemi estetici di un viso che magari può non essere totalmente perfetto, in realtà esiste la perfezione, no. Quindi c'è questa cosa che io ho notato, che infatti mi hai un po' confermato tu con questo che mi stai dicendo. Vabbè, ovviamente quando le due cose riescono a essere insieme hai la perfezione assoluta del prodotto, però dipende anche cos'è lo scopo per cui tu fai fotografie o fai video, ovviamente quello che vuoi ottenere dal mezzo espressivo. Certo. Ma che altro? Altre differenze che ti vengono in mente? L'emotività, ad esempio, l'emotività di un set, certo c'è sempre intorno a tutto quello che... No, ok, giusto. Quell'armamentario che serve a gestire luci, ambientazioni, eccetera, ci sono un po' nei due mondi, ma che differenza passa? Allora, sicuramente mi viene da dire che per me, ovviamente molto soggettiva questa cosa, però per me, posare per delle fotografie è più semplice, perché nel momento in cui tu invece devi ricitare hai più cose da tenere sotto controllo. Se sbagli, l'errore perdura per più tempo, nel senso che ovviamente non è uno scatto, ma è un'intera ripresa che è da risistemare. Esatto. Mentre una fotografia è qualcosa di istantaneo, cioè uno scatto sbagliato, lo puoi rifare subito dopo, ha maggior ragione, adesso che si lavora con il digitale. Esattamente, sì. Per cui, da un punto di vista, appunto, proprio dell'esperienza sul set, è meno stressante, ecco, per me. Questa è una mia valutazione molto personale. Ci sta. Poi anche la gestione delle persone, nel senso che di solito quando sei su un set per registrare qualcosa di video, a parte quello che abbiamo, eccetto quello che abbiamo fatto insieme io e te, ci sono più persone, quindi hai anche magari un'ansia da prestazione maggiore, perché ci sono più persone che ti vedono fare quello che stai facendo. Esatto. Un cast un po' più ampi, dilattati, e anche ovviamente qualcun altro che recita insieme a te, e quindi qualcosa di un'intersecazione di... Esatto, di figure professionali, mentre il rapporto con il fotografo di solito è uno a uno, salvo... Un po' più intimo, insomma. Sì, salvo situazioni magari più grosse, ovviamente hai assistenti, make-up artist. Mi piace tantissimo farmi truccare, sia nei set fotografici che in quelli video. Penso che piace anche a me il mondo del trucco, e molti a volte mi dicono, ma c'è un uomo che si sta lì a interessare, invece a me proprio interessano molto sempre le fasi di trucco, tutto quello che sta dietro alla creazione, alla miglioria, e a volte proprio vado, no, da sui set, dai make-up artist, a rompere un po' le scatole per queste cose. Esatto, poi anche quello mi viene adesso uno spunto di riflessione. Anche la parte del trucco è molto diversa, se ci pensi, nel senso che nel video deve essere sempre il più naturale possibile, quasi non ci si deve accorgere, mentre nel mondo fotografico tu puoi andare a stravolgere col trucco anche il viso di una persona, perché hai ovviamente un risultato diverso, perché lo controlli da un punto di vista dell'immagine statica, e quindi non dell'immagine in movimento. E poi diciamo che a livelli medi, non andando all'esoterico, in fotografia si può intervenire in maniera molto più semplice su quello che è un problema, un difetto di ripresa, un difetto di postura. Assolutamente. Perché se no si prende una figura umana e la si modifica completamente. Per farlo in video, c'è sì, c'è il motion tracking e tutte queste cose, però ovviamente bisogna essere un po' più a posto in fase di ripresa. Molto più complicato correggere i difetti, esatto. Allora facciamo un'altra chiacchierata su questo aspetto. Parliamo, adesso focalizziamoci un po' di più sulla fotografia, che forse è quello che interessa di più gli utenti, i follower del mio canale. Allora, in fotografia tu avrai visto diversissime tipologie di fotografi, fotoamatori davanti a te, come si approcciano in maniera molto differente a seconda del loro carattere, della loro modalità di comportamento, del loro approccio alla fotografia e della loro esperienza, perché ovviamente a seconda di questo ci sono differenze di interazione, di comportamento. Che cosa puoi dirci su questo aspetto? Come ti rapporti a seconda di queste differenze? Cioè la tipologia di fotografo totalmente taciturno, perché stai iniziando, ti chiede una mano per fare le prime esperienze, oppure quello più scafato, dove magari hai fatto un lavoro video e ti chiede anche un lavoro foto, e quindi è una cosa un po' più... Ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale. Assolutamente, puoi parlare anche di me, ma insomma noi abbiamo fatto due cose. No, ok. Allora, parto da una considerazione di che cosa preferisco io in generale, nel senso che appunto venendo dal mondo della recitazione, e quindi come attrice, in realtà io sono molto più a mio agio ad avere un regista, quindi avere qualcuno che ha un'idea di quello che vuole ottenere, e per ottenere quest'idea quindi ti dà delle indicazioni, che poi non deve per forza voler dire correggere ogni singolo movimento, ogni singolo dettaglio, però che è in grado di darti delle indicazioni precise rispetto alla direzione che vuole insomma intraprendere, in modo che anche io ovviamente possa mettere la mia parte di esperienza e di autoconsapevolezza di quello che posso fare e di come posso farlo, ma sapendo in che direzione vado, quindi sicuramente preferisco qualcuno che parla rispetto a qualcuno che si affida completamente a me. Mi è anche capitato ovviamente, perché nel caso qualcuno appunto abbia delle idee un po' confuse, ossia all'inizio si affida, sceglie una persona da fotografare anche magari in base a, come dire, il suo gusto e l'esperienza della persona. Certo, un po' all'apporto che può dargli, perché lui in generale sarebbe più in difficoltà nel fotografare una persona qualunque che non ha lavorato in questo settore e quindi dice, ma vorrei una persona che già... Che sa un po' che cosa fare e come farlo. Esatto, esatto. Quindi questo sicuramente capita. Io poi tenendo anche dei corsi, vedo molto di frequente questo comportamento da parte di chi non ha grande esperienza, tendono a guardare tutti gli aspetti tecnici, no, della loro macchina, delle luci, eccetera, eccetera, e delle volte si silenziano totalmente. Invece no, parlate con le vostre modelle, è importante stabilire un rapporto, perché secondo me in qualsiasi cosa tu fai di artistico, comunque la relazione personale è fondamentale, anche per la buona riuscita del prodotto. Fossero anche semplicemente delle cose banali, nel senso che anche se vi state affidando a quello che viene spontaneo fare alla vostra modella, che ne so, delle frasi di apprezzamento, ma apprezzamento sul lavoro, mi raccomando, non scivolate in banalità, però per far capire alla persona che quindi sta improvvisando e sta improvvisando appunto proprio perché non le date indicazioni, che comunque quello che sta facendo per voi va bene, nel senso che è nella direzione che vi piace, perché magari perdi un sacco di tempo, a fare cose che possono venire spontanee a me, ma non sono il tipo di risultato che voi volete ottenere e quindi poi rischi di buttar via lavoro. Sì, insomma un feedback che permetta di poi sincronizzarsi su un qualcosa che si vuole ottenere. Buona norma, quello che dico spesso io nei corsi di ritratto e workshop che hanno come tematica la fotografia di persone è comunque coinvolgete sempre la persona che sta lavorando insieme a voi, anche con le banalità, con ok, così continua, mi piace. Questo sì, questo no. Esatto. E a livello psicologico è sempre meglio questo sì oppure proviamo qualcos'altro, perché il no su un set è estremamente raggelante. Non so se ti è capitato. Sì, mi è capitato. Secondo me sta anche lì un po' la sensibilità delle persone, nel senso che se spieghi perché quella cosa non funziona, forse anche solo banalmente stai attenta a non mettere mai la mano di qua perché c'è la luce. Quindi è una motivazione tecnica, io la capisco. Certo. Ovviamente dipende anche con che persona stai lavorando, però me ne accorgo, dico ok, devo pensare che questa cosa non si può fare perché è una regola di questo set di luci. Certo. E quindi è inutile, perdo tempo, magari a me piace mettere la mano di qua, ma in quel contesto non lo posso fare. Quindi è ovvio che devi essere molto attento alla relazione con la persona è fondamentale. Certo, certo. Ho visto anche tantissime persone delle volte che lasciavano la loro modello, modello, comunque la persona ritratta a fatiche enormi, no? Nel movimento delle mani e poi stavano ritraendo esclusivamente il viso. Sì, no, certo. Cioè, capitano queste cose che sono estremamente, insomma, creano freddezza e poi uno dà del meglio di se stesso a qualcosa che non serve a nulla. Certo. No, infatti, è importante sapere qual è il piano di ripresa in ogni caso, anche nel mondo video come attrice si richiede di sapere così sai che margine di movimento hai. Certo. Non sprechi energie inutilmente. Dall'altra parte, sì, mi viene da dire che bisogna stare attenti anche a non dare troppe indicazioni che diventino una gabbia per la persona che state fotografando, perché mi è capitato che qualcuno desse delle indicazioni quasi millimetriche rispetto a quello che dovevo fare, e un conto è se hai davvero un obiettivo ben preciso ti serve un risultato fatto in un certo modo che è veramente quello e basta. Magari uno scatto unico, no? Un'immagine che uno ha già in testa perfettamente già pre-confezionata allora sì. Allora sì, altrimenti rischiate di mandare la persona un po' in blocco nel senso che non so più che cosa fare perché ogni cosa viene corretta al centimetro e anche bisogna secondo me stare attenti a non forzare troppo magari in qualcosa che sono innaturali per la persona che sta fotografando perché ognuno ha il suo stile allora se volete una determinata cosa vi consiglio di scegliere una persona che già di suo rientra in quel mood fotografico non forzate qualcuno che non è cioè non è spontaneamente adatto a quel mood a fare qualcosa che non gli appartiene perché si vede poi che è scritto certo e questa cosa è molto importante per chi comincia perché spessissimo si vedono delle immagini di ragazze normalissime che non sono assolutamente modelle e nemmeno hanno mai posato forzate a delle pose completamente folli quella che io per ridere tutte le volte evidenzio parlando di questo aspetto è la famosa posa del gecko attaccato al muro poi adesso non posso mostrarla perché l'inquadratura è fissa però hai presente quando ci si spalma sul muro con la gamba di solito sempre alzata che si appoggia dietro al muro che non ha senso nemmeno in teoria per chi sa muoversi e sa posare immaginiamoci per la casalinga di Voghera classico tanto io sono di Pavia quindi sono anche vicino a Voghera per la casalinga è assurdo farle fare una cosa del genere è una recitazione che non sa comunque portare avanti e questa cosa è un po' probabilmente un retaggio anche americano perché tanti fotografi americani hanno il vizio tra virgolette lo stile insomma la procedura di far posare in maniera molto molto precisa i soggetti ad esempio mi viene in mente nel glamour ci sono tante fotografe americane perché un po' il business del glamour da loro è in mano alle donne che spostano millimetricamente il corpo di una donna proprio il piede porta il piede avanti di due centimetri la spalla ruota un po' così e tutto questo a me appare estremamente fake estremamente fasullo anche perché secondo me è anche una questione di a chi chiedi di fare questa cosa perché lì passa la parte dell'esperienza nel senso che ovviamente più una modella è esperta e più sarà in grado di far sembrare naturale anche una cosa che naturale non è ma quello è proprio come dire competenza mentre più una persona è inesperta come modella più ha bisogno di essere dentro qualcosa che la fa sentire a suo agio per avere un buon risultato chiaro chiaro quindi meglio consiglio finale di queste chiacchiere è meglio una cosa semplice che sia un po' più calata nel personaggio che voi state ritraendo piuttosto che la follia di far posare una ragazza normalissima acqua e sapone come una vamp fuori di testa insomma sono d'accordo quindi questo è un po' il noccio della questione bene avevamo paura di non avere argomenti per questo video mi pare di capire che abbiamo addirittura sforato l'idea iniziale di minutaggio e quindi direi che per questa chiacchierata spero di essere stato abbastanza esautivo lei soprattutto perché ha parlato di più e in modo più interessante spero anch'io spero è la prima volta che mi faccio intervistare quindi ero un po' emozionata poi dal neos non è che c'è non è che capita va bene ragazzi allora io vi ringrazio per aver seguito questo video spero che vi sia stato utile spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata vogliamo saperlo sia io che Giulia nei commenti di questo video noi ci vediamo al prossimo video condividete mettete mi piace se no non sapete cos'altro fare iscrivetemi al mio canale ci vediamo alla prossima ciao ciao